ariete al lavoro non saranno rose e fiori oggi potrebbe accadere l'impensabile marte ti rende particolarmente nervoso toro hai sperato talmente tanto in un cambiamento che da oggi avevi giusto deciso di non crederci più giove ama stupire ti porta le risposte che aspetti da tempo gemelli umore e prestazioni altalenanti in tutti i campi non sei di compagnia oggi non sogni altro che una serata sul divano di casa cancro forse ora di cambiare qualcosa e valutare un investimento importante leone sarà la palestra il nuoto le lunghe pedalate ma oggi sei in ottima forma e qualcuno lo noterà con piacere la tua energia sarà contagiosa vergine sei così preso dal lavoro che tutto il resto arriva dopo partner e famiglia sempre comprensivi nei tuoi confronti forse non hanno più voglia di esserlo bilancia forse le scorrettezze di un collega non ti arrecheranno alcun danno e mostreranno a tutti la sua vera indole scorpione la promozione cui aspiri da tempo la dimostrazione di affetto particolare che ti sorprenderà oggi tutto sarà possibile tu coglierai ogni possibilità sagittario venere nel tuo segno ti vuole felice con il cuore palpitante passione ritrovata con il partner capricorno se fossi in ottima forma fisica tutto sarebbe perfetto oggi fai il pieno di energie sarà una giornata intensa acquario marte nervoso e belligerante non aiuta a mantenere la calma nervi in grande agitazione pesci oggi lavorerai come una macchina senza troppa attenzione come fossi in una catena di montaggio anche se così non è